ciao a tutti bentornati nel canale oggi parliamo di effetto albedo ma cosa c'entra l'effetto albedo con i nostri impianti fotovoltaici? la ricerca della maggiore esposizione del sole tra le prime preoccupazioni di un progettista o comunque di chi costruisce un impianto fotovoltaico che sia un privato oppure un un'azienda che installa un impianto fotovoltaico non tutta la radiazione solare infatti arriva sulla terra una parte viene riflessa dall'atmosfera una parte invece riesce ad attraversarla e quindi questa viene assorbita il resto devia dal percorso e viene comunque diffusa propagandosi in tutte le direzioni la parte di radiazione che raggiunge invece la superficie della terra viene detta diretta la parte diretta più quella diffusa rappresenta la radiazione globale se la superficie non è orizzontale ma inclinata si aggiunge anche la radiazione riflessa quindi la radiazione riflessa dipende dalla natura del terreno questa capacità viene quantificata tramite il coefficiente di albedo che è il rapporto tra la radiazione riflessa da una superficie e la radiazione incidente sulla superficie stessa questo coefficiente di albedo può assumere valori compresi tra 0 e 1 e ogni superficie ogni tipo di superficie ha un diverso coefficiente di albedo che ne so una superficie acquosa può avere un coefficiente di albedo di 0,07 la neve 0,75 quindi molto più alto rispetto alla superficie acquosa una strada sterrata ne può avere 0,04 eccetera comunque questo coefficiente varia quindi in base alla capacità di riflessione della luce di una superficie quindi a noi cosa interessa questo coefficiente di albedo ci sono dei modi per aumentare la radiazione riflessa della luce che ne so anche dipingendo una superficie di un tetto magari di bianco o comunque di un colore metallico che rifletta più luce possibile verso i nostri pannelli queste sono tutte tattiche che magari un costruttore può adottare per avere una radiazione riflessa maggiore sui propri pannelli comunque questo coefficiente di albedo ci servirà poi a noi per calcolare la densità di potenza e il raggiamento la radiazione solare eccetera eccetera quindi con questo breve video volevo un po' spiegarvi questa cosa mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo nei prossimi video dove magari vi spiegherò tante altre piccole perle che magari non vengono considerati buona serata a tutti ci vediamo presto nei prossimi video